Ciao a tutti! Allora, è uscito un video, un video mukbang intitolato Eating Show Mukbangita a conduzione familiare con pizza fatta da mia moglie. E stiamo ovviamente parlando della famiglia Dalimberti. Allora, ci fa vedere questa pizza che però è stata comprata già pronta all'impasto, quindi lei ha soltanto messo su il condimento. E ci fa vedere appunto questo piatto di pizza che, vi dico sinceramente, a me sembra, continua a sembrare questa pizza che fa Chiara, continua a sembrare una lasagna magari venuta un pochino male, più che una pizza, perché è altissima e quando poi la tagliano e la mettono in bocca sembra veramente di una consistenza molto pastosa, ancora cruda, dico sinceramente, tant'è che mentre loro dicono buona, buona come buona, per loro intendo Chiara e Davide, la Luciana dice che, insomma, fa la voce dissonante, osso dire, perché mette in dubbio che questa pizza sia stata cotta o quantomeno sia stata cotta bene. E devo dire che mi associo all'incredulità o al dubbio comunque che ha Luciana, perché io non so se Chiara prende questo impasto e magari non lo stira per bene, non so che cosa fa, fatto sta che appare veramente troppo, troppo, troppo alto. Io capisco che ci sono anche persone che amano appunto la pizza alta, ma quando è così alta, alta come la pizza che hanno mangiato ieri, perché poi era un vlog, diciamo, fatto il 18, poi quella roba lì rimane tutta sullo stomaco, insomma, diventa anche assai difficile da digerire. E in effetti, mangiato un pezzo, loro che poi, insomma, riescono tranquillamente, ma come un po' riusciamo tutti, a mangiare tutta la pizza comprata in pizzeria, appunto, quella bella tonna, insomma, fatta per bene, di questa pizza qui, hanno mangiato un trancio che era abbondante, ripeto, in altezza e non in grandezza, ma più di tanto, insomma, a quanto pare, non sono riusciti. Non avevano il bicchiere, però avevano, devo dire, posate e piatti, questa volta non hanno mangiato sul cartone, anche perché, essendo una pizza fatta in casa, era un attimino difficile. Come ripeto, non c'erano bicchieri, evidentemente, ognuno aveva la sua bottiglia vicino, Davide aveva la sua bottiglia di estatee, che con la pizza, come sul dire, è la morte sua. Insomma, mangiando questa buonissima pizza, a detta di Davide, fatta da sua moglie, hanno discusso di un po' di cose, tra cui, insomma, le uova, che devono comprare le uova di Pasqua, che ci faranno un video con questi spacchettamenti delle uova di Pasqua, che porteranno altri contenuti, insomma, altri video, alcuni che sono stati fatti in passato, li riproporranno, e, insomma, ci terranno un attimino compagnia con questi nuovi video, che, teoricamente, dovrebbero essere fatti. Poi, vedremo nella pratica se effettivamente ciò avverrà, e soprattutto quando avverrà, perché, insomma, non è detto. Hanno parlato, appunto, delle uova di Pasqua, delle serie TV, della gattina, di un po' di tutto. A un certo punto c'erano tre piatti, questi tre piatti che hanno usato per mangiare, che si dovevano buttare, insomma, si dovevano lavare, scusatemi. A questo punto si dissociano tutti dal lavaggio di questi piatti, perché vi ricordo, insomma, che ormai a casa da Limberti la parola d'ordine è dissociarsi sempre e comunque, e a un certo punto, praticamente, Davide ha detto, vabbè, visto che nessuno voleva resti piatti, io li prendo e li vado a buttare nella spazzatura dove si butta il vetro. A questo punto, Luciana dice, guarda che la ceramica non va buttata dove si butta il vetro. Molto argutamente, perché questo è vero, la ceramica va buttata nell'indifferenziata, invece, sia Davide che Chiara la riprendono dicendo che no, la ceramica va buttata dove si butta il vetro, e dicono alla mamma e suocera che se lei, insomma, ogni tanto si occupasse di andare a buttare l'immondizia, questa cosa lei la saprebbe. Io, sinceramente, ho cercato nel web, anche per quanto riguarda la situazione di Milano, per ciò che concerne la differenziata, e anche lì mi hanno detto che, insomma, la ceramica va buttata, appunto, nell'indifferenziata e non nel vetro. Ditemi voi, se magari siete di Milano, e ne sapete qualche cosa. Giusto per sapere, insomma, chi ha effettivamente ragione, se è Luciana o Chiara è Davide. Poi pare che, da quello che ho capito, insomma, a Luciana si è fatta anche un prelievo di sangue, e a quanto pare, insomma, gli hanno lasciato un bel ematoma, e a quel punto, secondo voi, Chiara che cosa ha detto? È da denuncia. Insomma, come sbagliarsi? Ormai ha questo pallino, insomma, ogni due per tre vorrebbe fare questa cosa, e quindi, evidentemente, anche in questo caso, quello che le viene in mente è denunciare, insomma. Allora, io questo mukbang me lo sono visto perché a me ciò che cucina Chiara mi dà sempre, come dire, curiosità, ecco. Non essendo io particolarmente brava in cucina, quando vedo chi probabilmente sa cucinare più di me, insomma, la guardo perché, insomma, sono curiosa dei piatti che fai anche per capirne i segreti. Però devo dire che io da quando vedo come cucina Chiara, da quando vedo i piatti di Chiara, io, ragazzi, peccherò di presunzione, però mi sento veramente Chef Ramsay. Non so se sapete chi è, insomma. Comunque, questo era tutto per quanto riguarda questo mukbang. Questa sera ci sarà una live di Fate. Vedremo cosa avrà da dire, quali novità ci porterà, di quali cose verremo a conoscenza. E per il momento è tutto. Io vi auguro una buona serata, vi abbraccio tutti e a presto. Ciao.